Grave incidente questo pomeriggio in via Sette Ponti tra la rotonda di Montione e Quarata. Un camion in transito ha perso il carico che stava trasportando alcuni pali che hanno colpito e ferito un ciclista, un 54enne del posto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 di venerdì pomeriggio. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno attivato anche l'elisoccorso Pegaso e la polizia municipale per i rilievi di legge. Il ciclista è stato portato all'ospedale Careggi di Firenze in codice giallo per trama toracico.